quando c'è stato proposto di sviluppare la nova x3 si era partiti in un progetto ma durante le fasi di sviluppo abbiamo capito che avevamo in mano un ottimo blank abbiamo cercato visto che potevamo spaziare di fare qualcosa di veramente di bello utile potente e soprattutto affidabile la nova x3 è una canna proprio per quelle persone che vogliono iniziare a pescare a bolognese ci abbiamo lavorato tanto e oggi chiamiamo praticamente una canna quasi entry level con caratteristiche che non avevamo mai ottenuto prima e oggi abbiamo una canna che è bellissima che è bilanciata che è potente che gli puoi chiedere quello che vuoi questa canna una volta presa in mano si avrà subito la percezione che un oggetto che ci si può portare avanti molto nel tempo perché ha un grado di miglioramento personale nell'utilizzo ampissimo è vero che è un medio basso di gamma ma le sue caratteristiche intrinseche sono già di medio alto gamma quindi abbiamo trovato veramente un ottimo connubio tra costo e altissima qualità grazie 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 grazie